Imbarcano acqua a bordo del loro natante a pochi metri dalla spiaggia della Molara lungo la costa di Scario. Due diportisti salvati dagli uomini della guardia costiera di Palinuro agli ordini del tenente di vascello Amalia Mugavero. Nella tarda mattinata di ieri l'imbarcazione si trovava nell'area marina protetta costa degli infreschi della Massetta a poche decine di metri dalla spiaggia della Molara nel comune di San Giovanni Appiro quando all'improvviso ha iniziato ad imbarcare acqua. Sono bastati pochi minuti e il natante si è piegato su se stesso fino a scomparire quasi del tutto in acqua. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni turisti che hanno allertato la sala operativa della guardia costiera di Palinuro. In pochi minuti il personale è in servizio a bordo del gommone dislocato a Marina di Camerota già in mare per il consueto pattugliamento dell'intero litorale ha raggiunto la zona segnalata. Dapprima ha tratto in salvo i due uomini che si trovavano in acqua e poi ha attivato le misure necessarie per evitare che il natante affondasse e provocasse danni ambientali. La barca infatti con l'aiuto di sub specializzati ed una unità da a rimorchio è stata trenata nel porto di Scario dove è stata messa in sicurezza. Tanta paura per i due occupanti della barca originari del napoletano che non hanno riportato alcuna ferita. Al vaglio degli uomini della capitaneria le cause che hanno provocato l'affondamento del natante. Nel frattempo lungo il litorale il personale della guardia costiera di Palinuro ha continuato il pattugliamento al fine di verificare il rispetto dell'ordinanza di sicurezza balneare. Durante tali controlli sono stati presi in esame complessivamente cinque stabilimenti balneari. Tra di essi uno è risultato avere occupato un'area maggiore di quella autorizzata con una differenza di circa 500 metri quadrati. A seguito di questa violazione riscontrata dai militari il concessionario è stato deferito all'autorità giudiziaria per la conseguenza del suo comportamento. Inoltre è stata emessa un'intimazione affinché l'occupazione e l'uso dell'aria tornassero immediatamente alla situazione regolare e autorizzata. Questi controlli sul rispetto dell'ordinanza di sicurezza balneare proseguiranno come parte integrante dell'operazione Mare Sicuro che è stata avviata a livello nazionale il 17 giugno scorso. L'impegno della Guardia Costiera in questo ambito si estende su tutto il territorio marittimo al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme in ambito balneare.